Se ami Minecraft, questo nuovo DLC che sto per mostrarti ti farà esplodere il cervello. Nel gioco sta infatti per essere introdotto un nuovo contenuto aggiuntivo dedicato a Dungeons & Dragons. Si tratta di un'espansione incentrata sulla storia, in cui è possibile scegliere tra alcune delle classi più iconiche del celebre gioco di ruolo, come ad esempio il barbaro o il mago. Ci saranno ben 5 luoghi iconici dell'ambientazione liberamente esplorabili, dal trailer direi Candlekeep, Silvermoon e Icewind Dale di sicuro. Inoltre, sarà possibile livellare il proprio personaggio e scegliere tra un botto di nuovi oggetti equipaggiabili. Saranno introdotti anche un bel po' di nuovi nemici, tratti proprio da D&D, come i Beholder, le bestie distorcenti e, ovviamente, i draghi. Io non vedo l'ora di giocarci. E voi che ne pensate?